ecco l'acquisto effettuato tramite Andrew Mas saluto un bacione e Andrea il suo collaboratore di questo fantastico Naptamacro Simplex lo consiglio un bacio cos'è Mimmo? alluminio profondo arrivo subito sotto la pianta dello smarino arrivo subito tesoro eh che bella campagna proprio sotto il rosmarino bello profondo e che ormai una lattina eh non lo so però ci può essere qualcosa dentro ah qualcosa dentro? può essere perché è alluminio non la tratta in meno guarda che probabilità proviamo a scavare un po' è già un bel po' che scava eh proviamola vediamo qui poi siamo proprio sotto casa nella nostra campagna qui vediamo dopo dopo più di un mese e mezzo hai ripreso il gallet 150 il magnifico ci vorrebbe qualcosa si comincia a muovere però è profondo ancora profondo non so che può essere si muove un po' si muove un po' si muove si muove ci vorrebbe qualcosa speriamo che sia un tesoro ah un bel tesoro nascosto eppure qua ho piantato questa pianta due anni fa due anni fa hai piantato il rosmarino non va messo profondo ecco perché forse non è alluminio perché si piega si piega si piega niente non vuole uscire eh no sarà bello grande si è profondo e lungo abbastanza profondo non vuole uscire ma non è niente solo un tubo è un tubo? chi sa chi l'ha messo qua e vabbò chissà da quanto tempo sarà bello vecchio si guarda è continuo anche qua sotto si vedi ma tutto qua a tirarlo fuori qua è un casino bisogna scavare profondi poi bisogna vedere se va qua qua sotto si per lasciarlo qua ma è peccato che è inguina vedi? dai un altro giorno vedremo si va bene un altro giorno prenderemo gli attrezzi bene scaveremo qua e faremo vedere cos'è che dici? eh si si poi facciamo vedere cos'è prendere verremo ben attrezzati sei tanto stanno qua vicini ok è anche profondo eh? si si bella miseria va bene ok la prossima vi faremo vedere la continua della buca cosa uscirà vedremo la prossima la continua la seconda parte va bene ciao a tutti dalla campana del 150 ciao a tutti ciao a tutti